Ciao a tutti ragazzi, ancora Leo che parla, continuiamo con Saint Row e Gata Out of Hell, questa volta dopo aver migliorato un barbanero di Le Gemelle, andiamo da Shakespeare. L'interesse è pieno, e ha cercato di testare il metto di visita. La tragedia di masca, avevano usato l'enemies cowering quando si approcci, ma sopra si avvicinano che si avvicinano un foe con coraggio e nobilità. Trazione incombinante, a fiori di perdizioni. E' un cappero in questo caso. E' un'altra cosa, è una cosa. Il tempo è venuto per un'azione di riuscita! Guarda i lanci che viene da più che volete! E' un super evocato. Guarda, guarda! 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 Oh, un arci demone! Ma ma siete finiti! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! Arci di demone, ma abbiamo uscito l'arci demone, perché... ...e rovevo fare... ...e rovevo fare... ...eco... ...arci demone è andato... ...e adesso... ...providiamo tutti i regali! Il conflitto si risolvono... ...Shapespere... ...l'occhio... 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 ...Shapespere sempre aveva un po' ...l'occhio! Ah, ok, perché sono morti tutti! ... 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 ok ci serve solo per potenziare ok va bene va bene io sono andato sempre quello della petata quindi adesso mi arrivano dei demoni che mi vogliono fare il culo e io li uccido tutti usare il blaster trappi e amese di tenere scuola la dottura scuola non mi frega niente li faccio fuori così no non posso no devo usare per forza sto schifo io volevo evoccare i demonietti se non me lo fai fare vabbè allora uscirò qualcosa pensate di crepare prima o poi o... eh che cosa dai su devo ammazzare 10 vabbè da cagare va oooola vediamoci quasi di dosso muori grazie oh ma la pianti? fa stigioso che non sei altro no carva no l'ho tirata male non ge queste nabate troppo vai 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 bel tiro di merda muovo 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 vuoi ammazzare te cioè non è che sto puntando a te a caso ci sono 12 oh ma cazzo ma io sto morendo aspetta ma perchè mi hai messo questo? questo voglio bisogno di vita quale arma migliore per fare del chiaro definire easy questa missione o avete rotto le palle madonna stasera stacchi ma non ti voglio prendere muori non tornerò all'altare ecco qua potere bene abbiamo sbloccato un nuovo elemento siamo calati dalle palle all'altare e io con questo andando in cima alla gru inchiodandomi su un muro andando in cima alla gru vi saluto noi ci vediamo con il prossimo video mi raccomando rimanete sintonizzati sul canale non mancate di commentare mettere un like ed iscrivervi ciao